Sappiamo tutti quanto sia difficile sviluppare una piccola impresa. Mancanza di precisione nel calcolo dei costi, monitoraggio inefficiente delle scorte con conseguente acquisto di merci e materiali non necessari, mancanza di informazioni rilevanti per il processo decisionale, svantaggio tecnologico nell'automazione aziendale rispetto alle grandi aziende. Tutto ciò comporta delle perdite, grandi o piccole, esse crescono come una palla di neve e possono diventare fatali se non vengono gestite il prima possibile. Si ritiene che l'automazione completa o la business intelligence sia un qualcosa sviluppato e disponibile solo per le grandi imprese. One C Drive può dimostrare il contrario. Un potente software di automazione progettato specificatamente per le piccole e medie imprese. One C Drive aiuta le aziende a gestire facilmente ordini, vendite, contabilità, produzione, inventario, risorse umane e stipendi. Una soluzione completa per automatizzare i processi chiave in una piccola impresa. One C Drive assicura la trasparenza delle operazioni e rivela nuove opportunità di crescita aziendale. Scalate il vostro business con One C Drive. Grazie a tutti. Grazie a tutti